Un figlio, dopo la morte del padre, mette la madre in una casa di riposo e va a fargli visita ogni tanto. Un giorno riceve una chiamata dalla casa di riposo, la quale lo informa che la mamma stava morendo. Arrivato lì, chiese a sua madre, cosa vuoi che faccia per te, mamma? Triste la mamma risponde, semina amore. Voglio che fai mettere i ventilatori nell'ospizio, perché non ci sono il calore insopportabile. Voglio che compri anche dei frigoriferi, così il cibo non si rovinerà. Molte notti sono andato a letto senza aver mangiato niente. Il figlio sorpreso risponde, ma ora mi stai chiedendo queste cose, mentre stai morendo. Perché non me lo hai detto prima? La madre rispose triste. Io mi sono abituata a convivere con la fame e il caldo, ma la mia paura è che tu non possa abituarti quando i tuoi figli non si prenderanno più cura di te e ti manderanno qui, quando sarai vecchio. Ricorda sempre, tutto quello che fai nella vita ti verrà restituito. Grazie a tutti.